Donne filmate nei camerini di un negozio d'abbigliamento del centro commerciale Gran Sasso di Pianodaccio. Parte da qui un'indagine su cui la procura mantiene il massimo riservo, ma che grazie all'arrepentino intervento dei carabinieri ha permesso nel giro di pochissime ore di individuare l'autore di quelle riprese abusive in assoluta violazione della privacy. Si tratta di un terramano di 38 anni che, stando a quanto finora emerso dalle minuziose indagini a cura dei carabinieri della stazione di San Nicolò e della Compagnia di Teramo, aveva piazzato una pendrive dotata di telecamera all'interno di uno dei camerini del negozio in questione. La pendrive quindi ha ripreso alcune donne intente a spogliarsi per provare i capi d'abbigliamento scelti. E fondamentale è stato il contributo di uno dei vigilantes del centro commerciale, al quale non sono passati inosservati quei movimenti sospetti dell'uomo beccato ad entrare e uscire stranamente sempre da quel negozio ed aggirarsi con fare appunto sospetto sempre nei pressi dei camerini. Una volta scattata la segnalazione, i carabinieri è stata ritrovata e sequestrata la pendrive. All'interno sono state trovate le prove di quella che non riterremmo azzardato definire una devianza. Nella chiavetta i carabinieri infatti hanno rinvenuto diversi video con protagoniste ignare potenziali clienti di quel negozio. Una in particolare sarebbe già stata identificata e diventerà fondamentale la sua querela perché il reato da contestare al 38enne è disciplinato dall'articolo 615 bis del codice penale e interferenze illecite nella vita privata. Ma per poter procedere contro il responsabile occorre la denuncia della o delle vittime.